Pochi spazi, grandi opportunità. Il convegno in programma a Varese offre a chiunque abbia case spaziose o immobili inutilizzati di metterli a reddito, attivando un bed and breakfast, una casa vacanza o più in generale un canone d'affitto. Questa è una giornata per portare a conoscenza delle persone che ancora non lo sanno, come si apre, come si gestisce un bed and breakfast, una casa vacanza oppure una locazione. È un lavoro che è diventato molto di moda ultimamente, proprio per chi ha a disposizione qualche immobile vuoto che possa trattarsi di una camera, di un appartamento o di una villa, non ha nessuna importanza. Nata su impulso di eventi sportivi di ampio richiamo, in primis la settimana mondiale di canottaggio dell'estate scorsa, l'iniziativa cerca di far fronte a due esigenze. Da un lato, innescare un circuito virtuoso di guadagno regolare e dichiarato. Dall'altro lato, come dicevi, il turismo cresce, cresce molto e quindi gli spazi che sono attualmente esistenti nelle strutture ricettive di extra alberghiero non sono sufficienti. Quindi questa è una possibilità per allargare le opportunità del nostro territorio.